I vaccini ritornano in Campania. Domenica 10 gennaio il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva annunciato che tutti i vaccini contro il Covid-19 arrivati erano stati somministrati. Il governatore ha informato immediatamente il commissario Arcuri, chiedendo nuovi rifornimenti. Fortunatamente la risposta è stata altrettanto tempestiva. Oggi le nuove dozi di vaccino sono già arrivate nella nostra regione. A confermarlo, i video della Guardia di Finanza, in cui vengono mostrate le pattuglie delle fiamme gialle intente a scortare i furgoni di HL contenenti il prezioso medicinale. Le immagini in questione mostrano un carico partito dal centro di smistamento di Casandrino e diretto in varie strutture ospedaliere tra Napoli e Pozzuoli. La questura di Napoli sta coordinando tali operazioni con un quadro che regola ogni spedizione e la relativa scorta. Da questo prospetto emerge che i vaccini verranno nuovamente consegnati in tutto il napoletano e che quindi la campagna di vaccinazione potrà riprendere senza interruzioni.